Ben trovati amici! Oggi prepariamo la pizza Sarsicce e Fraglielli. Per prepararla utilizziamo delle basi pizza Camuto dell'azienda Puglia Sapori, come da link che trovate sul video. Vediamo insieme gli ingredienti. Per ogni pizza utilizziamo 200 g di fraglielli già cotti, una sarsiccia, una mozzarella, sale e olio extravergine d'oliva. Inseriamo sulla base i fraglielli. Pugliamo la sarsiccia e aggiungiamola sulla pizza a pezzetti. Lo stesso poi facciamo con la mozzarella. Spezziamola con le mani e inseriamola sulla pizza. Aggiungiamo un pizzico di sale, un filo d'olio e inforniamo a 180 gradi per 15-20 minuti. La pizza è pronta! Grazie Puglia Sapori! Con la tua base ho preparato in modo veloce una buonissima pizza in casa come in pizzeria. Alla prossima video ricetta con Puglia Sapori! Grazie! Grazie!